benvenuti a una nuova lezione di italiano per tutti oggi vedremo un argomento molto semplice l'alfabeto italiano quindi seguiremo seguirete tutte le indicazioni che vi darò per imparare tutto l'alfabeto le lettere dell'alfabeto vediamo subito la prima slide allora nell'alfabeto italiano esistono cinque vocali e 22 meno 5 a 17 consonanti ovviamente non appartengono in modo originario distinto e proprio all'alfabeto italiano lettere straniere come la y la x la w o la j però vengono usate quindi noi nell'elenco le mettiamo le consideriamo saranno credo segnate in rosso ma le vedremo dopo allora quello che vedete è la lettera dell'alfabeto il nome della lettera quindi come si dice questa lettera in italiano è un esempio della parola che incomincia per la lettera a in questo caso quindi a ecco una cosa importante da dire prima di iniziare tutto l'elenco è che a differenza di altre lingue come l'inglese ad esempio dove ogni vocale o anche consonante può avere delle sfumature diverse in parole in termini diversi in italiano le lettere sia vocali che consonanti hanno per il 95 per cento sempre lo stesso suono quindi quando dirò a sarà sempre a di casa o di amico sempre a quindi la vocale a è la prima amico ok la b si chiama b ovviamente scritto b e una parola che inizia con la b è bene la c la c ha due modi di di ovviamente di a di essere accentata e come cibo o c c c c c cibo o cane quindi aperta o chiusa c c o c c queste piccole differenze ovviamente sono rare e ovviamente devono essere imparate per parole diverse però sostanzialmente si dice sempre c c di cane c di cibo ok di di dono di dono e e si dirà sempre e non si dirà i a o e ma si dirà sempre e e si la parola è estate quindi estate passiamo alla seconda slide f si scrive f con due f in questo caso f raddoppiata e la parola è fuoco g si scrive g si chiama g questa lettera e le parole sono gelato o g gatto quindi g o g quindi chiusa aperta come anche la c lo stesso modo ce l'aveva g tagliente g più gutturale di gatto gelato o gatto poi subito e doppio abbiamo la h quindi la h e vedete si scrive h con la perché in realtà italiano in italiano la h non si pronuncia quindi o scriverla con la h davanti in realtà non avrebbe senso perché si dice comunque h e quando dico hotel non dico hotel ma dico hotel esattamente come se la h non esistesse ovviamente la la parola hotel non è di origine italiana quindi sostanzialmente una parola straniera e le parole la maggior parte anzi quasi tutte le parole che iniziano per h sono parole straniere ovviamente non si pronuncia tranne ovviamente in quei casi in cui la h non è all'inizio della parola ma è fra due altre lettere come ghiro in questo caso senza h si leggerebbe giro quindi la g in questo caso la g diventa g gutturale quindi rafforza e riempie la g e in questo caso invece la c di chiave con la h se non ci fosse la h si direbbe chiave che ovviamente una parola senza senso quindi ghiro e chiave chiave la i si chiama i ed è semplice di idea la j e si chiama j vedete g e j in italiano ad esempio una parola che non è italiana ma è importata dall'estero è jazz j di jazz in questo caso vedete che la lettera è in rosso perché nell'alfabeto italiano non esiste non la citiamo se io dovessi dirvi l'alfabeto fino a qui sarebbe a b c d e f g h i l salterei direttamente alla l passiamo la prossima slide vedete che la prossima è la l che in blu però prima c'è anche la k la k che si chiama k e ad esempio anche questa una parola importata e koala con la k davanti come dicevamo l quindi si dice si chiama questa lettera l e la parola è limone la lettera m e la parola è mano quindi m di mano n uguale alla m solo che la n con due n come parola e la come come nome e la parola è nido quindi n di nido poi abbiamo la o un'altra la penultima vocale la o di o ca ecco come le altre come la a la e la i la o si pronunciano sempre nello stesso modo o sarà sempre o di o ca e passiamo alla prossima slide p p p p p di parco la q c u in questo caso si dice q q q di quadro la r quindi r gli italiani pronunciano a r a differenza ad esempio degli inglesi in modo molto raschiante è molto usata la r in italiano con la con la tremolio della lingua che per altre per altre pronunce per altre lingue è complicata quindi bisogna esercitarsi molto solo ad esempio semplicemente a pronunciare la lettera perché r è già difficile per per alcune lingue quindi r di radio radio ok s s s s s di scuola o sbaglio ecco ce ne sono due parole in questo caso perché abbiamo due suoni diversi abbiamo già visto la s ripassate la lezione sulla s in questo caso la differenza fra le due parole scuola è scuola e c proprio z s sbaglio sbaglio scuola sbaglio t latte di torta si scrive t è il nome della della lettera e la parola è torta, torta. Qui ce ne sono ben due di t, quindi la t, la t di torta, torta. Perfetto. Prossima slide è la u, e in questo caso siamo all'ultima vocale, la u, e si pronuncerà sempre u, non sarà iu, ma sarà sempre u, la u di uva, quindi u di uva. La v, la v, allora il nome è, alcuni sbagliano, perché il nome originale della v è v. In italiano alcuni la chiamano v, cioè vi, in realtà il nome corretto di questa lettera è v, di verità, quindi v di verità. La doppia v, quindi la chiamata anche v doppia, quindi sono due v affiancate come simbolo. In italiano non esiste questa lettera, è importata dall'estero, infatti vedete che è rossa. Abbiamo tre lettere di seguito, v, x e y, che sono rosse. Ovviamente vengono usate, perché molti termini straniere, abbiamo già detto, sono ormai importati in Italia, utilizzati giornalmente, come ad esempio web. In questo caso non si pronuncia v, come in realtà è scritto v doppia, ma si produce, si pronuncia come è la pronuncia inglese, web, perché in questo caso w sarebbe una doppia u, quindi web ha tenuto la pronuncia ovviamente originale inglese. X, x e si scrive ics, x, x non è una lettera italiana e la parola collegata è ad esempio xilofono, xilofono. Ovviamente non si dice x, xilofono, ma si dice x, quindi viene in questo caso elisa, la prima, la prima, la prima i, quindi xilofono, xilofono. Y, e siamo quasi alla fine, y è l'ultima, l'ultima consonante, l'ultima lettera che è in rosso e non è presente nell'alfabeto originale italiano, in questo caso y, si scrive esattamente come lo leggete, y, e un termine utilizzato, e anche questo importato, è yogurt. In questo caso si pronuncia come una i, molto spesso, ovviamente è una i, ma molto spesso può subire qualche piccola variazione, però ovviamente bisogna poi impararsela per ogni parola. Yogurt, quindi y, d, yogurt. E siamo in fondo, l'ultima lettera dell'alfabeto italiano è la z, quindi dalla a, la prima, alla z, che è l'ultima, quindi z, z, z di z, si chiama z, e i due, le due parole, in questo caso in esempio, sono zò e marzo, quindi z, z e zo, zò. Abbiamo già visto la lezione sulla z, quindi andatevi a ripassare le due diverse pronunce della z, come anche le avevamo fatte per la lettera s e per altre. Bene, spero che vi sia servito, se volete posso ripetervi l'alfabeto, così ve lo memorizzate, riguardatevi ovviamente queste slide. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ho saltato le consonanti della lettera in rosso, che sono la K, J, W, X e Y. In questo caso sono consonanti che ormai fanno parte, diciamo, dell'alfabeto moderno italiano, ma non sono, non sono di origine ovviamente italiana, quindi storicamente non sono riconosciute nell'alfabeto, nell'alfabeto stesso. Bene, una lezione proprio di base che poteva servire, ad esempio, alla nostra amica Shenda, che sta imparando, che sta imparando qualche parola di italiano e la salutiamo e la ringraziamo di vedere queste lezioni. Vi ringrazio, come sempre, per la vostra attenzione. Vi chiedo di seguirmi sul canale YouTube, vi chiedo di mettere un like sul video se vi è piaciuto. Ci vediamo nelle prossime lezioni. Seguitemi anche sul blog itaperutti.blogspot.com. Se ci sono dubbi o domande, benvengano e quindi ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti. Ciao!